I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semenzato in lengua padovana. Prefassion Mi so sa che che sarà qualche d'un pronto a criticarme, non perché che abbia scritto in diaetto, perché adesso si usa e i sindacati parchi sia contenti, ma perché il mediaetto non è quello di Ruzzante, non è quello di Goldoni, né quello del Porteo, né quello di non so mi cosa. Sono sicuro che salta fuori subito un grammatico che il voria che il mediaetto fosse purissimo, eccetera, eccetera, e che certe parole sarebbe meglio dirle così, e che qualche altra non l'haga mai sentia lui, naturalmente, e via discorrendo. Adesso non si può neanche scrivere in diaetto senza che salta fuori i grammatici. So sicuro che mi dirà su di tutto per questo e per quello. Pazienza. Mi è il diaetto e ho imparato da me pare e da me mare. E mi son rangià a parlarlo senza tanto pensare se il già era di una specie o di un'altra, o se magari egli era turbio. Gossercà anche a mi di fare come il manzoni, e che aveva lavato il disea le sostrasse in arno. Mi gossercà di lavarli al ponte scaricatore. E pa' essere più simmetrici nel bacchiglion. Ma meglio non dopo due fare, perché anche il bacchiglion adesso se inquina. E a voler lavare strasse se corre il rischio di onzerle. Cosa ve posso dire? Spero che non sarei tutti quanti dei grammatici e che gaverei un poco di compassione. ma mi fadiga. Fadiga si fa perdire. Perché invece mi sono divertito un sacco. A presto. A presto. A presto. A presto.